allora se piove andiamo tutti al mare si parte domani ho voglia di correre ci state a fare una gara al primo che arriverà in fondo alla passerella attenti pronti 1 2 toman lei ha imbrogliato ma ho vinto come vince sempre parla tre lingue nuota come un pesce sa camminare coi piedi per aria lei gli insegnerà signor jim vuol venire domani a casa mia per aiutarmi a portare i bagagli alla stazione quanto è strana catrini è di origine aristocratica da parte di padre popolare da parte di madre il suo padre discende da vecchia famiglia della borgogna sua madre era inglese perciò lei ignora le vie di mezzo e insegna a quelli che la guardano cosa insegna shakespeare jim la considerava talmente di jules che non cercava nemmeno di farsene un'idea precisa il tranquillo sorriso tornava ad apparire sulle labbra di catrini e le era così naturale la esprimeva tutta